Amici miei, nemici miei, amici miei, nemici miei... Passare dall'essere bravo a eccellente in qualcosa richiede meno sforzo ed è molto più facile che provare a passare da incompetente o dall'essere un carciofo totale a mediocre. Frasetta sì da bacio a Perugina, classico articolo, diventato poi libro, Managing One Set di Peter Drucker, Harvard Business Review, ma se ci pensate, Ken Robinson, The Element, The One, bleh bleh bleh, still most of the people, they focus the majority of their time on what they not good, so why the hell you do it? Perché da un lato uno pensa, ma no, se ti impegni puoi essere bravo in qualunque cosa. Straordinaria cazzata, perché se prendo Federica Pellegrini, è un fenomeno a nuotare, ma non è che sia un fenomeno anche a fare ginnastica artistica. O poi magari la fede è un fenomeno anche lì, ci siamo capiti però. Tutti i grandi o le grandi, comunque le vuoi definire, comunque tu definisca successo, sono stati grandi in una cosa sola principalmente, la loro vocazione, le loro competenze, la loro bravura, la loro mentalità, la loro attitudine, la loro passione, il loro tutto si è concentrato su una attività, ma fatta alla grande. Ognuno di noi ha questa competenza, slash vocazione, slash talento, slash non innato, slash diecimila ore, ma c'è. E allora lo sforzo, se ci pensate, è capire qual è il tuo punto di forza, ed è lì che secondo me molte persone si perdono. Un paio di consigli pratici. Il primo consiglio, maledetta di quella miseriaccia, è osservarsi. Ok, ci siamo capiti. E last but not least, sapete secondo me qual è un segnale di una cosa che davvero fa parte di te, sulla quale davvero puoi costruire, che è dove davvero puoi passare da essere buono a eccellente. E quando ne parli di fronte a chiunque ti ostacoli o ti dica no, non ce la puoi fare, e sei pronto a guardarlo negli occhi e dire guarda che quando tu andrai in pensione, quando sarai morto, quando tu avrai mollato, io sarò ancora qui, a martellare su questo, fino in fondo, fino a che non ce l'ho fatta. E questo secondo me è un ottimo segnale. A presto.